veramente vero stronzo stronzo ma tu sei un coglione di doppia mannata che sei uno stronzo no 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 ma perché è vero urla però madonna eh ma come per miscò mi accetta a tutti ma perché è vero i cantanti fanno così è perché bisogna togliere tutte le gli appiccichini della crazy run ecco il premio grande vittoria le bandiere queste bandiere però hanno fatto del bene perché siamo riusciti anche a donare qualcosina di quello che avevamo ricavato nella vendita di sottobanco per la gara e di queste bandiere erano quelle più grandi la situazione dynamo camp onlus ecco qua quindi bene così la posso dato anche chiara adesso metteremo un pochino togliere gli appiccichini questi no quelli bianchi piccoli della gara poi tocca una pochettina fermati scemo si levano le levate tutti secondo te si levano se no si tocca una pochettina e se no provciano con le levate tutti i dadi se no ti tocca una pochettina , e la stai ferma con le levate tutti i dadi se no ti tocca una pochettina no 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 s'entrapeva un pochettina io non ti fanno passare no stiamo di qui vicino lei non ha trampato ancora no no la violenza no ragazzi no una pochettina così quel di che sonne? no quella è lo staccato di che sonne? è il QR code si si va bene hai capito? quelle le appiccicate le potevo mettere in polvere forza madonna no no allora fermati no ma mia ce l'ho messa io me l'hanno appiccicata i loro mia ce l'ho messa io se comporta male e chi è? sempre al solito eh allora ha portato una personcina fa giustare le bici hai capito? è vero? siamo atti uguali guarda un po' grande Guido oh no hai visto? ti ho portato un pugile perché io ho inventato un nuovo gioco tiratatitti tiratatitti com'è? tiratatitti come si? c'è il prete questo è il nuovo gioco fermati in secondo battemi con la zampata dove? dove la dai la zampata? su un pallotto rive su un pallotto rive come fa? come fa? come fa? Filipe? Filipe? no c'è un buon jeppe 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 c'è il jeppe? no testo sinistro antipasto misto possiamo fare in me ce ne vengono? eh sì ma smetti tiratatitti ma smetti eh eh no ma stampa tutta la maglia oh no ma c'è il prete c'è c'è il prete guarda che esce il prete esce il prete esce il prete esce il prete tiratatitti no 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 le minacce no tiratatitti è zitto stavano che confio mi sta zitto mi dai il permesso stavano quanto è grosso scendi giù di qui c'è il gol dai che travesta te la posso lanciare la bici? dai 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 dammene tu la mia no do uno solo dai vai no pronto ah 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 fa male ah fa male questo fa male vedi una potenza ragazzi che veramente dove va? nel magno vivo quanto su grosso lo viste l'ho ricomprate 93 anni guardate 90 guarda che bomba cambia i 20 cambia anche le marce guarda che lavoro 93 anni guarda che bestia questo va guarda procediamo così procediamo così pranzo veloce coccodrilli se fate click su questo link che cosa sono usciti? i stickers come? i stickers come? ma vaffanculo gli adesivi i nostri adesivi guardate che belli guardate all'interno di queste fantastiche scatole guarda un po' a coccodrillo eccola qua guardate quanti sono ce ne sono più di 10 ma sono veramente pochi quindi affrettatevi perché ce ne abbiamo pochissimi disponibili veramente belli potete tappezzare ovunque anzi chi li prende li attacca li mettiamo subito sulle storie vero? coccodrillizziamo tutti fate cliccate e eccola qua arriverà il box ne sono veramente pochi quindi affrettatevi li potete anche attaccare fermate che attacchi fermate che attacchi che attacchi ma che attacchi che attacchi ma vuoi la testa di cazzo no grazie ai grafiche paciotti che mi hanno realizzato questa cosa su misura fantastica fatta benissimo a coccodrillo ora vi lascio il loro link cliccate per andare a vedere cose molto ma molto particolari e carine l'ottobre oggi è San Francesco cioè tra tutte le persone che potevo incontrare ecco il patrono d'Italia con la benedizione ragazzi veramente che bello incontratto a San Francesco con la strana coppia prego accomodatevi lo portiamo a iscriversi all'accademia della box vai vai famosa Santa Maria vai vai per gli allievi sugli allievi lo iscriviamo che sciacca di coglione mi costo più che ti vuole c'è un amico che ti vuole c'è un compadrillo leva sto cuccio dai un bacetto su ma te neve dico io devo fare questa ambietta abbassate che sparano abbassate che sparano tu ti scorre addio si menano si menano si menano beh ma te l'ho detto a me mi piace vedere ma mi piace vedere ma io ne faria sto scontro ah ci credo destro destro sinistro ti fa sto misto oh oh no aiutami anche tu però Posso metterlo al posto? Stavolo là Oh lei sta zitta Zitta e subisce Non vediamo più No, no, non vedete Toc, toc, toc No, che è stato un po' fastidio Divertiti? Sì Io sì Eh, vi piace la box? Ho visto che fanno Bella gioventù A me mi piace A vedere Ma fa la box Se a me piace A piacere di cazzo Siamo Giovanotti Fate i bravi Me lo tenga bene Lo tengo sotto olio Oh, mi raccomando Lo tengo Eh? Che c'è? Che c'è? Guarda un po' Ah, la moto, sì Quella è la mia Questa è Federico No, quella è la mia No, è la mia Eh, ma che fa male il braccio Sì, va bene Arrivo L'ambio veloce Un po' più serio Questa sera Si sta Si va A Montalcino Per fare una bella dimostazione Quindi si va Perché? Non lo so Ma Tartufo qui e Brunello Voi venite a Torino a vedere le partite Io spero di venire Eh, quando venite ditemelo a me Ci faro di venire